Ciao ragazzi, eccoci ancora qui, ci risiamo con la lettera R, siamo a buon punto e meno male, direte voi, ma meno male lo dico anch'io, però quando ho finito questi poi, vabbè, mi inventerò qualcos'altro. Allora, andiamo con le dieci parole difficili di oggi con la lettera R. La prima la vedete già qui, redarguire è un verbo che significa rimproverare, riprendere aspramente, vedete che questa evidentemente sta rimproverando, redarguendo questa ragazzina. Ok? Magari la prof vi redarguisce perché voi non svolgete i compiti. Riesumare invece, qui non ho messo l'immagine perché c'erano tutte delle immagini veramente improponibili, comunque riesumare un cadavere, disotterrare, riportare alla luce in modo letterale, ma può anche, in modo non letterale, può anche significare, vedete, rendere di nuovo attuale. Che ne sto, quella storia, quel libro è stato riesumato dal passato, vuol dire un libro che magari ha avuto successo nel passato, è stato messo ancora in circolazione, è stato riletto e via dicendo. Reazionario, questa parola l'ho messa perché spesso si sente quando si spiega storie, soprattutto nei periodi della rivoluzione francese e periodi successivi, periodo del risorgimento italiano. Il reazionario è il conservatore, quello che è contrario alle riforme detto anche appunto oscurantista in opposizione all'illuminista che invece si fa illuminare dal lume della ragione. Allora il conservatore è quello che dato che sta bene così com'è, non vuole cambiare una beata mazza, solitamente nella storia i conservatori sono sempre stati i reazionari, sono stati quelli delle classi più agiate naturalmente, i nobili e il clero perché loro stavano bene e quindi chi gli faceva cambiare? Assolutamente no. Andiamo avanti con la revoca che è una disdetta, un annullamento, che magari un appuntamento è stato revocato, vuol dire che è stato annullato. Il refuso invece, quello che fate spesso voi alunni cari quando mi presentate dei compiti stampati, scritti a computer e stampati, è un errore di stampa, attenzione, poi ho messo questo perché il refuso non è da confondere con l'errore di ortografia. Il refuso è, che ne so, uno sta scrivendo quale e la A e la L si invertono, scrivendo velocemente, battendo sulla tastiera del computer, quello è un refuso. Oppure magari un refuso può essere anche faccio un copia e incolla e magari mi rimane una punteggiatura sbagliata perché ho incollato e non ho tolto magari la punteggiatura che c'era prima, quello è un refuso. Invece l'errore di ortografia è ad esempio scrivere qual è con l'apostrofo, cosa che si vede purtroppo spesso e volentiero, quello non è un refuso, quello lì è non sapere una beata mazza della lingua italiana. Ok, andiamo avanti, quindi i refusi li posso anche ammettere quando mi consegnate i compiti, gli errori di ortografia no. Andiamo avanti, recidivo, recidivo, siete voi certe volte recidivi, quando noi provi diciamo non dovete fare questa cosa e voi recidivi, ci ricascate. No, qui è scritto in modo generale chi commette un reato dopo essere già stato condannato per altri reati, incallito, cioè ti hanno beccato e lo rifai. Però recidivo non è che devi avere per forza commesso un reato, rispetto ti sgrido magari perché ti dondoli sulla sedia e tre secondi dopo ti ridondoli ancora. Allora, sei un recidivo, va bene, repentaglio è un pericolo, ok, un rischio, questo sta mettendo a repentaglio la propria vita, anche perché sta camminando in questo senso invece che nel senso del filo, quindi di sicuro mo cade, va bene, a repentaglio. Abbiamo poi rubicondo, che è questo bel signorotto qua, vuol dire da rubio, ruber se non sbaglio in latino, che vuol dire rosso, appunto, rosso vivo, vermiglio, rubicondo, quello bello rosso di solito dopo aver bevuto tre, quattro bei bicchieri di vino, ok, viene da lì e si chiama, e si dice così. Le ultime due, allora, rimostranza è una protesta, un reclamo, una lagnanza, magari qualche genitore fa delle rimostranze all'insegnante o al dirigente perché non è contento di qualcosa, oppure è l'insegnante che fa delle rimostranze al genitore perché non è contento del figlio. Mentre redigere vuol dire compilare, stendere un testo per iscritto, di solito si usa il verbo redigere con il verbale, no? È stato redatto il verbale della riunione e abbiamo finito anche la R. Ciao a tutti!